ben trovati amici ed eccolo qua il nostro sabbighi fatto in casa fatto solo con materiali di riciclo trovati in casa come per esempio lo scatolo del caffè che da dietro è cromato ed è impermeabile la plastica della busta del riso in sottovuoto e ho scoperto un materiale con grandi proprietà idrorepellenti la carta forno bene ragazzi prima di rivedere come realizzare il nostro sabbighi fatto in casa con materiale di riciclo vi invito ad iscrivervi al canale a mettere mi piace ad attivare le notifiche bene adesso bando alle ciance e vai col tutorial ciao 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 ciao